Buonasera a tutti i miei cari telespettatori di questo pomeriggio. Benvenuti ad una nuovissima puntata di YouZone, in onda ogni pomeriggio, dal lunedì al sabato, su Italia 2. Chi sono? Ma sono Martina Smith, la vostra presentatrice psicopatica. Su, cosa aspettate? Dite anche ai vostri amici di sintonizzare gli ascolti. Abbiamo delle fantastiche novità questa settimana, i migliori video in circolazione li abbiamo noi, anche i più cretini. Beh, su, iniziamo allora. Il primo video che vi andrò a presentare oggi è Bittersweet Vida Loca e la dedico a voi uomini perché siete sempre gli stessi. Carne fresca e tonica allo sbaraglio, paletti d'acciaio e andate in orbita. Il prossimo video che andrò ad introdurvi si intitola La mia fetta di rimorso. Ed io so che di un certo sabbia, o sabbia, 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 so di per certo chi è stato un chitarrista, il chitarrista di Pelù. Ehi ma, ma chi è quella tipa nel video? E come mai mi assomiglia così tanto? E come mai si veste come me? L'originalità non è più un lusso! Il prossimo video è ambientato sulla spiaggia. Zack Attack e Martina Smith. Già, mi dispiace, scusatemi, non ho resistito. Ho dovuto fare la prima donna, sì, e annunciare il video cantato da me. Che ci posso fare? Capitemi, fremevo! Beh, allora guardatelo. Mi raccomando, guardatelo! Baci, baci, baci a tutti, ciao!